FONTINO AL POOL Rega non mi distraete sto registrando la semifinale Mario porca miseria se mi slacci la scarpa cado alla scala Sai cosa dovresti fare Mario? VINTA QUESTO VETS C'è una nuova che mi sa Sarà il mio telefono A Como ragazze dovete sapere che se ti chiudi in macchina a fumare si chiama il? CHIUSONE Esatto CHIUSONE 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 Lascia un pertero, grazie, guarda che lo inquadro, che bellissimo Perfetto, grazie, spiace Red Bull conducono la partita Quattro mani praticamente, come quelle del piano, del pianoforte 12 a 9 Però si è fatto male Andrei E ormai Sì Sì Via, via Va bene, va bene, va bene Travate È vero Anche quello, raga 5 e 2 Red Bull Tutto lo sparone No, sai perché mi lega le scarpe vecchio? Perché lui piace fare tre dita in caduta, allora vuole che io lo impari È come il maestro, è come il maestro quello di Karate Kid, come si chiama pure Senza spostare i piedi Cioè tu lo devi imparare così Si avvicina molto Si avvicina molto Con il fumo che si rega il tuo avvicinamento Grazie 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 Grande pool di continuo Grazie 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 a tutti. 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 Se lo fai da qua devi riuscire a dare agli spettatori l'idea di cosa sta succedendo non solo intorno al disco ma anche laggiù in fondo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . . . . a tutti.